Dovrebbe essere riassorbito dall'emendamento della Commissione bilancio. Qual è il numero di nuovo? 9.144, pagina 68. In fondo, Presidente, è la pagina. Rocchi, dovrebbe essere assorbito dalla bilancio, però era favorevole, ma poi è intervenuto l'emendamento della bilancio. Va bene. Allora, il Governo, per favore. Conforme alla relatrice di maggioranza. La ringrazio. Allora, sì, avverto che l'emendamento 9.17 Simonetti, a pagina 26 del fascicolo, volto a premettere al comma 2 dell'articolo 9 un periodo, verrà posto in votazione dopo l'emendamento 9.28, a pagina 32, che invece è volto a sostituire integralmente il medesimo comma 2. Allora, poi è stato ritirato il 9.128. D'accordo? Allora, a questo punto i pareri sono stati dati, quindi sospendo la seduta che riprenderà tra un'ora. alle 3 meno un quarto, la seduta è sospesa. Grazie. 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 Grazie.